In attesa di tuffarsi nella Champions League, la Savino del Bene riparte alla grande in campionato. La sconfitta di Onisanti con Conegliano viene archiviata rifilando un netto 3-0 e danni di Trento, ultima in classifica. Anche senza diversi titolari come Antropova, Karol e Ju, Scandicci non permette mai alle Trentine di entrare in partita. Lo dimostrano i tre parziali, in cui le padrone di casa non riescono mai ad arrivare a quota 20. La vittoria permette alla Savino del Bene di risalire al terzo posto in classifica. Si infrange invece al Palavanni il momento positivo del Bisonte, 1-0-3 a senso unico, quello con cui Casal Maggiore liquida una Firenze ma è in grado di mettere in difficoltà gli avversarie. Le ragazze di Parisi pagano sicuramente la fatica dei 5-7 giocati contro Roma, ma in campo si vede davvero troppa confusione. Resta comunque il bilancio positivo di questa prima fase di stagione. Abbiamo fatto belle partite e partite meno belle, però in generale secondo me ce la siamo giocata abbastanza bene per ora. Quindi di continuare su questa linea d'onda.